Io ho cominciato la mia carriera da spettatore, io andavo nei cabaret con il registratore, quello che c'era all'epoca della Philips, il primo registratore a cassette portatile, me lo infilavo nella pancia sotto il golf, mettevo il filo del microfono che usciva da qua e stavo quattro ore così a registrare gli spettacoli. Dino Formicola si è raccontato sul palco del teatro Virginian in un fuoristagione all'insegna della grande comicità, 50 anni di carriera e non sentirli il titolo della serata talk, un appuntamento unico nel suo genere con uno degli artisti che più ha lasciato il segno nella storia del cabaret italiano, dividendosi tra televisione e teatro. A noi piaceva il teatro, tant'è vero che noi abbiamo sempre continuativamente fatto il teatro e la televisione era il promo, per noi la televisione è sempre stata il promo per convincere la gente a venirci a vedere dal vivo. Un vero e proprio incontro aperto nel quale Nino Formicola ha ripercorso momenti e retroscena dei 50 anni di carriera a partire dall'incontro con Andrea Brambilla con cui ha dato vita all'affiatata coppia Zuzurro e Gaspare. Andrea aveva un talento comico raro, io dico sempre, anche adesso prima mi hanno fermato, ci hanno fatto ridere in televisione, ma far ridere in televisione non vuol dire niente, i comici bisogna andargli a vedere dal vivo, dal vivo capisci chi sono quelli veri e quelli farlocchi e Andrea era uno che poteva stare sul palco fermo un quarto d'ora e far ridere la gente senza dire una parola, cioè era proprio un talento, bastava quello, bastava, cioè quindi le pause, i controtempi, e quindi sai è un'altra storia. Commissana Zuzurro, il capo ci ha affidato un nuovo ed importantissimo caso, ha capito? Sì, va bene, ha puntato Menea, ma fermo, stiamo dicendole che bisogna dirigersi al museo d'arte moderna. Sì, assolutamente, velocissimamente, ha capito? Ti accompagno in centro. Io compio 70 anni, sono 50 anni di carriera e sono 10 anni che è morto Andrea, quindi, e io non mi sono divertito per niente, in questi 10 anni mi sono divertito pochissimo perché a 60 anni ricostruirti la carriera da solo quando sei abituato da 40 a lavorare in un'altra maniera, credetemi, è difficile.